Gossipitavip, se lo sussurra, lo svegliamo. La pressione si fa intensamente sentire dopo l'arresto di Filippo. I genitori, Nicola Turetta ed Elisabetta Martini, sembrano quasi scomparire da Torreglia, evitando gli obiettivi dei fotografi. Circondati da pochi parenti e avvocati, la loro dimora è diventata meta di curiosi morbosi che si scattano selfie davanti alla casa di Filippo. Ieri, i genitori hanno rinunciato all'incontro previsto nel carcere. Comunicando tramite l'avvocato Giovanni Caruso. La loro rinuncia è giustificata dalla necessità di prendersi più tempo per elaborare le implicazioni emotive e prepararsi al meglio. Inizialmente, è stato Filippo a richiedere l'incontro con i genitori al suo arrivo nel carcere di Verona. Nonostante la richiesta accettata, i genitori non si sono presentati. Nel pomeriggio, solo il team legale, composto da Giovanni Caruso e Monica Cornaviera, è giunto per elaborare la strategia difensiva. I genitori potranno incontrare il figlio nelle prossime settimane. Ma l'intenzione comune è quella di stare lontani dal processo mediatico e rimandare la richiesta di un eventuale esame sulle condizioni psichiatriche del 22enne, strettamente legato al nodo della premeditazione, fulcro dell'inchiesta.